Bimbi, buongiorno! Avete visto che sole bellissimo che c'è fuori? In che stagione siamo, bimbi? In primavera. Esatto, siamo in primavera. E cosa succede in primavera? Nascono i fiori. I primi, i primi, i primi fiori. Fiori. Esattamente. E proprio oggi, con voi e con le mie bambine, voglio fare dei fiorellini per abbellire la vostra casetta. Oltretutto, con questi fiorellini, ci andiamo ad esercitare un pochino con la coordinazione oculo-manuale. Mi chiederete, ma cos'è questa parola? Allora la spiego alle vostre mamme e ai vostri papà. Sarà poi il nostro occhio, la vista, a aiutarci a seguire le linee dal momento che i nostri bambini impareranno poi a scrivere la scuola primaria. Adesso noi andiamo ad aiutarli un po' a seguire proprio le linee tramite il gioco, con dei semplici esercizi. Cominciamo. Quello che serve sono fogli bianchi, un penarello verde, tempere, o in alternativa gli acquarelli, e... Gordontiapri. Esattamente. Andiamo a disegnare, o facciamo disegnare ai bambini più grandi, degli steli. Come questi. Come questi. E poi andiamo a metterci delle piccole stressorine di verde. Così. Esattamente. Proprio così. Poi chiediamo ai nostri bimbi di seguire le linee e i puntini con il cotonfiore. Così, guarda come facciamo. In questa maniera. Ma non faccio le righe. Vero? Volete cominciare ragazze? Sì. Dai. Così non mi sto. Mentre le mie bimbe continuano con il loro capolavoro, ecco, io ho preparato già per voi quello che sarà un po' il risultato. Io, vedete, inizialmente ho seguito la linea, poi dopo ho reso un po' più cicciottello il nostro fiorellino per renderlo un po' più carino. Aspetto tutti i vostri fiori meravigliosi e vi mando un grande abbraccio e un bacione. Ciao bimbi, a presto! Ciao bimbi.